La legge di bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di definire in viaggio volata i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche per coloro che siano decaduti da precedenti rottamazioni per omesso versamento di talone rate. La procedura consente di estinguere il debito pagando le sole somme residue dovute a titolo di capitale e di spese per le procedure esecutive e diritti di notifica, pertanto non saranno dovute le somme a titolo di sanzione, interesse di mora e agio. Il pagamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione oppure attraverso un piano di rateizzazione che prevede un massimo di 18 rate. Le domande dovranno essere presentate entro non oltre il 30 aprile 2023 e la procedura è esclusivamente telematica, quindi dovranno essere presentate accedendo alla piattaforma online messa a disposizione dal sito di Agenzia delle Entrate e Riscossione. Feder Consumatori Parma, come anche nel 2019, ha attivato un servizio di assistenza per coloro che intendano avvalersi della definizione agevolata. Sarà possibile accedere all'associazione tramite un appuntamento che dovrà essere concordato telefonicamente contattando il seguente numero 0521 50 89 49.